Ciao a tutti ragazzi, sono Roloa ed oggi vorrei fare un focus on sul primo volume di Kenichi, un manga editato in Italia da Planet al costo di 4,20€, una storia che ha riscosso grande successo non solo in Giappone ma anche negli Stati Uniti. Attualmente conta 55 volumi usciti, una serie da cui sono state tratte anche tante serie anime. Il protagonista di questo manga è appunto Kenichi, un ragazzo molto sfortunato che ha diverse difficoltà a scuola, viene considerato un debole e spesso preso di mira da altri ragazzi, decide di iscriversi al club di karate per diventare più forte ma la sua vita cambierà in modo radicale quando incontrerà per la prima volta questa ragazza Mew. Mew si presenta a Kenichi come una ragazza normale, tuttavia il protagonista si accorgerà ben presto che in realtà lei possiede delle grandi capacità nelle arti marziali e nel combattimento. Dopo aver parlato molto velocemente della trama mi soffermerei sulle mie prime impressioni anche se in realtà non ho tantissimo da dire perché sostanzialmente questo mi è sembrato un volume necessario più che altro per presentare il protagonista, ovvero un ragazzo abbastanza debole che può diventare forte solo grazie a una grande determinazione all'allenamento. Per quanto riguarda il resto mi è sembrato che la storia prendesse realmente piede che la storia iniziasse sul serio proprio verso la fine del volume, cioè verso l'ultimo capitolo e questo diciamo non mi è dispiaciuto perché comunque la spiegazione, insomma l'approfondimento iniziale sui personaggi ci sta tutto, però per il resto appunto la storia mi sembra iniziare sul serio proprio dall'entrata di Kenichi nel dojo. Oltre questo il manga ha tutte le caratteristiche per essere diciamo il classico shonen, quindi combattimenti, azione, comicità anche a tratti, con un protagonista però un po' diverso nel senso che lo shonen classico ha il protagonista diciamo fortissimo, coraggioso eccetera eccetera qua diciamo c'è un protagonista un po' diverso, non che Kenichi sia un personaggio pauroso nel senso già in questo primo volume abbiamo notato qualche atto di coraggio però mi sembra un protagonista un po' diverso dalla media però insomma comunque mi ha dato delle buone impressioni mi hanno dato buone impressioni sia lui che Minu. In conclusione consiglio di recuperare Kenichi anche approfittando della vantaggiosa offerta di un euro su questo primo volume, inoltre se non sbaglio l'offerta vale anche per il secondo e il terzo volume anche se è un'offerta un po' diversa. In ogni caso mi piace, insomma questo volume mi è piaciuto anche se consiglio di non trarre conclusioni troppo affrettate perché sembra proprio quel tipo di shonen che inizia in un modo e si sviluppa molto molto diversamente, non che cambi genere ma che poi diventi una cosa molto più grande di quella che è all'inizio. Spendo solo due parole veloci per l'edizione che comunque è la classica edizione Planet Manga, non nel senso che fa schifo ma nel senso che è proprio la classica edizione formato normale e prezzo da 4,20€. Visto l'andazio mi aspettavo un'edizione di quelle quadrate da 4,50€ però per fortuna la Planet ha deciso di fare questo tipo di edizione e io sono completamente d'accordo nel senso che io preferisco di gran lunga questo tipo di edizioni qui e probabilmente adesso la serie uscirà mensilmente visto il gran numero di numeri da dover far uscire appunto e con questo veramente concluso vi rimando al prossimo video e alohaloha!